Il fondo è così semplicemente perché quella parte non è ad affresco, il colore è caduto e quindi questa macchia rossastra che si diffonde non è un suggestivo effetto che potrebbe ricercare un pittore del Novecento, ma è un difetto derivato dal passaggio del tempo legato all'uso di una tecnica che ha appunto una durata e ha una sua materialità. Guardate la famosissima annunciazione di Simone Martini degli Uffizi del 1333. Noi questa la capiamo meglio se pensiamo che in quel periodo, soprattutto a Siena ma non solo, e Simone Martini comunque è senese, il gioco della pittura è quello di entrare in contest con l'oreficeria. Cioè quanto più un dipinto sembrava un'opera di oreficeria, quanto più era ricco materialmente, quindi questo uso smodato dell'oro, tanto più era apprezzato. Quindi siamo in un periodo in cui si apprezza appunto questo valore suntuario e questo valore materiale dei dipinti. Quindi proprio perché l'opera d'arte è qualcosa di tangibile, di fisico, capire come è stata fatta senza diventare esperti di fusione bronzea o di tempera all'uovo, ma capire, rendersi conto di come è fatta fisicamente un'opera e quali procedimenti sono stati seguiti per compierla è un dato assolutamente fondamentale. L'approccio iconografico è il cercare di decodificare quello che l'opera d'arte vuol dire. Vuol dire a livello di contenuto, a livello di messaggio, di racconto vorrei dire. Queste sono le storie di San Silvestro nella chiesa di Santa Croce a Firenze di Maso di Banco, che è un allievo di Giotto, siamo verso il 1340, e qui vedete una serie di convenzioni che non fanno parte della nostra quotidianità. Non c'è nulla di naturale, è solo un elenco di abitudini che purtroppo noi non abbiamo più. Quindi, per esempio, questo signore qui, che vedete a mezzo busto emerto da questa specie di gruppo di macerie, non è che assomiglia tanto a quello che è in piedi. È sempre lui. È sempre lui per un fenomeno che noi chiamiamo di contrazione iconografica, cioè, anziché mostrare in un racconto, in fasi successive, due o tre momenti della vicenda, il pittore, o qualche volta anche lo scultore, decide di comprimerle e di montarle nella stessa immagine. I due signori morti, o perlomeno esanimi, diciamo che non stanno molto bene, insomma, crollati miseramente al suolo, nel centro del dipinto, non è che assomigliano, sono gli stessi di quelli che noi vediamo ricevere la benedizione del personaggio. Secondo voi, tacciano quelli che lo sanno già, ovviamente, questi sono felici, contenti, vivi e vispi, il signore al centro li benedice e crollano miseramente al suolo morti, o sono morti, lui li benedice e improvvisamente risorgono. Noi non lo sappiamo, come dire, naturalmente, perché non è che noi ci leggiamo tutte le sere, prima di andare a letto, la geografia di San Silvestro, e di nessun altro santo, credo. Per un uomo o una donna di cultura media del 300, questo era un messaggio molto chiaro, molto identificabile. A proposito di Erasmus, diceva prima Maria Franca, che anch'io sono coinvolto in queste meravigliose avventure, con gli scambi internazionali arrivano studenti che hanno un'origine molto diversa dalla nostra, quindi cominciano ad arrivare dei cinesi, dei sudamericani, che non sanno perché questo signore, ammesso che sia sempre lui, ha in testa una roba a punta bianca con una specie di corona. Ora, non lo sanno perché non fa parte della loro cultura, perché l'iconografia, cioè l'identificazione di un soggetto, come diceva Panofsky, si basa su uno step, vorrei dire, genetico, biologico, cioè tutti capiamo che questi sono uomini, tutti più o meno capiamo che queste sono case, queste sono cose che non sono culturali, sono naturali. Anche un indigeno della Nuova Guinea, non esposto ipoteticamente all'influenza occidentale, lo riesce a capire. Ma capire che quello è San Silvestro, perché è vestito da Papa, è un fatto culturale, è qualcosa che deve essere sovrapposto all'immagine. Quindi non sempre l'identificazione del contenuto è così facile ed è così semplice. Questa, per esempio, è l'immagine di metà quattrocento di un dipinto che sta a Berlino degli anni attorno ai 1460 e l'identificazione iconografica è molto nel vago perché a seconda delle interpretazioni questa è stata interpretata come personificazione dell'autunno, cioè una delle quattro stagioni, o come personificazione di una divinità minore della mitologia greca e poi romana, cioè una delle muse, nello specifico la Musa Talia. Non vi sto a dire perché, ma questo è un problema, perché noi non sappiamo esattamente che cosa questo quadro raffiguri. Che cosa raffiguri invece il dipinto di Van der Weyden l'abbiamo già detto e l'abbiamo già visto. Allora, capire come è fatto un dipinto e capire che cosa rappresenta è importante. Ancora più importante è appunto capirne il valore stilistico e quello che fa sì che la ragazza con l'orecchino di perla sia incommensurabilmente più bello, se mi passate questo termine generico, degli altri dipinti che stanno in questa mostra. Che cos'è lo stile? Lo stile è il modo con cui un artista risolve il problema di raffigurare un determinato soggetto con una determinata tecnica. È il vocabolario, la grammatica, la sintassi che usa, è il modo di definire il corpo, è il modo di scindere o invece di sfumare i chiari e gli scuri, è il modo di assecondare o non assecondare la tendenza alla raffigurazione della bidimensionalità o della tridimensionalità. Quando Mantegna dipinge questo San Marco che sta a Francoforte, vuole, cioè la sua mission, direbbero i nostri colleghi dell'internazionalizzazione, Maria Franca, la nostra mission è perché io voglio farvi vedere quanto sono bravo a fare la prospettiva. Quindi vi infilo il busto di San Marco all'interno di un arco con uno spessore fortissimo, vi metto all'avambraccio e il braccio a cavalcioni del davanzale, così voi capite che il resto è dentro, quindi ha una profondità. Just in case, vi metto anche un bel librone di taglio, vi metto un frutto sullo spessore, così che voi facciate come è bravo Mantegna a fare nel 1450 una cosa così, perché nel 1450 di pittori che sapevano fare cose così non ce n'erano tanti, soprattutto nella zona in cui lui lavora. Raffaello, di cui vi faccio vedere la Madonna cosiddetta del Cardellino degli Uffizi di Firenze, non è più bravo di Mantegna, non è meglio di Mantegna, è diverso da Mantegna. Io posso dire che Vermeer è più bravo di Rembrandt o di Franz Hals o di Jacobo van Ruisdael, perché appartengono più o meno allo stesso periodo. Allora io posso dare dei valori, per quanto personali e non oggettivi, in un qualche modo di intensità e di, appunto, scusate la ripetizione, valore. Mentre il mondo, l'orizzonte stilistico di Raffaello non è più quello di Mantegna, sono passati non tanti anni, 55, 60 anni, però l'idea di sfumare, l'idea per cui, come diceva Vasari, il passaggio dalla seconda parte delle vite, a cui appartiene Mantegna, quello che noi chiameremmo il rinascimento, alla terza parte delle vite, quello che noi chiameremmo rinascimento maturo, che inizia appunto con Raffaello, con Leonardo, a cui appartiene Raffaello, è quella cosa, quella differenza che c'è, oggi noi diremmo modernamente, tra quelli che si mettono in posa per fare una fotografia e quelli che vengono fotografati naturalmente. Vasari non fa questo confronto, ovviamente, perché Vasari non sa che esisterà la fotografia. Però, quando noi leggiamo l'introduzione alle vite, la seconda e la terza parte, dice, i pittori del Rinascimento erano preoccupati di farvi vedere che le figure erano tutte messi in scorcio e si dimenticavano della natura, della pelle, del sudore, del calore, dell'aria. I pittori della terza maniera, di cui Raffaello è appunto uno dei principali esponenti, danno questa grazia, questa naturalezza, questa eleganza, ma anche, e vorrei dire soprattutto, questo senso di scioltezza, di naturalità, non stanno tutti in posa, bloccati come i pittori della generazione precedente. È chiaro che noi non possiamo confrontare Raffaello con un mosaico tardo-antico dell'inizio del Cinquecento o con Caravaggio che a sua volta arriverà quasi un secolo dopo Raffaello e che viene tante volte letto proprio ex post, cioè perché Caravaggio piace, adesso faccio un discorso molto cretino, Maria Franca, ma se non avessimo inventato la fotografia, probabilmente Caravaggio non sarebbe così apprezzato, perché mette in gioco dei valori che nella nostra contemporaneità sono entrati e si sono affermati proprio per le soluzioni tecniche che sono state elaborate molto tempo dopo di lui e via andando nel corso dei secoli fino alla pittura di decorazioni settecentesche come questo splendido tiepolo del palazzo Vescovile di Udine. Io spero di avervi un po' confuso le idee nel senso che non le volevo chiarire, volevo appunto mettere in campo tante cose che potessero essere in un qualche modo usate come spunto e per quanto riguarda l'approccio storico e documentario a cui io sono molto affezionato visto che siamo in una biblioteca di discipline umanistiche i rapporti delle arti figurative della pittura della scultura con la storia politica con la storia economica con la storia della letteratura sono fondamentali questo dipinto del buon governo di Ambrogio Lorenzetti in Palazzo Pubblico racconta sul governo politico e sulla situazione sociale ed economica di Siena molto di più di tutti i documenti sul 300 senese perché è proprio un manifesto che la Repubblica senese decide di realizzare per auto celebrazione auto rappresentazione quindi noi dobbiamo guardando questi affreschi apprezzare il colore la linea lo stile ma dobbiamo anche capire che questi sono stati realizzati per persuadere le persone che passavano di lì nella sala di Palazzo Pubblico di Siena che stavano veramente nel posto meglio amministrato e meglio governato del mondo dove tutto funziona bene dove prosperano i commerci dove tutto è sostanzialmente perfetto è un'opera di propaganda politica non è la rappresentazione esatta di quello che a Siena succedeva e vorrei terminare con questa famosissima allegoria virgiliana perché di rapporti delle arti visive con le altre arti sapete quante ce ne sono quanti ce ne sono questo è per esempio il frontespizio che Simone Martini realizza per il codice di Petrarca con le opere di Virgilio con l'opera omnia di Virgilio e quindi forse noi possiamo anche pensare ad una comunanza di gusto uno non fa fare un intervento a un proprio oggetto se non condivide quello che è il messaggio culturale e il messaggio formale dell'artista a cui lo chiede e quindi noi possiamo anche leggere questa miniatura questo piccolo dipinto inserito in un codice in parallelo a quello che Petrarca vuol dire dal punto di vista letterario ci sarebbero tante altre cose da dire però visto che siamo in due e ho portato via anche troppo tempo e bene scuso mi taccio e restituisco il microfono grazie 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 per cui alla fine ti riconvocheremo a non a chiarire il confuso ma a sciogliere il complesso Paolo Cova è laureato collabora con il dottor Cova è dottore di ricerca in storia dell'arte si è laureato qua a Bologna quindi è uno dei nostri allievi migliori e collabora con il museo medievale in particolare con le collezioni della scultura ha scritto già vari interventi in particolare su sculture miniature medievali e a lui il compito come dire così complesso io quest'altro anno vorrei fare un seminario all'interno del mio corso di storia della filosofia sulle statue dei filosofi ecco e a questo punto io imparerò molte cose a partire dalle tue statue grazie grazie mille allora essendo allievo di Fabrizio e conoscendolo molto bene insomma sapevo e poi ci eravamo messi d'accordo ovviamente sul tipo di conferenza che si sarebbe svolto pensavo insomma di iniziare facendo tutto un discorso introduttivo sulla scultura sul problema dimensionale sul fatto che insomma è l'arte di dar forma ad un oggetto partendo da diverse tipologie di materiali grezzi c'è tradizionalmente la possibilità di insomma di trattare dei materiali attraverso addizione quindi per esempio ovviamente la terracotta o gli assemblaggi in epoca moderna oppure per sottrazione la scultura però dato che il mio maestro mi ha insegnato a non seguire maestri o perlomeno a trovare delle stare delle proprie che cosa faccio? Prendo quello che ha detto Fabrizio e faccio un bello shake e quindi utilizzo tutta una serie di esempi che adesso vedremo per ragionare sugli aspetti insomma che Fabrizio ha introdotto precedentemente e parto da un esempio piuttosto canonico quello che è l'altare del duca Ratkis cioè che è un esempio di scultura applicata ovviamente a un altare si trovava nella cattedrale di Santa Maria Assunta e oggi conservato al museo cristiano del tesoro del duomo di Civitale del Friuli è databile tra il 737 e il 44 ed è un classico esempio di un oggetto scultorio prodotto da una tradizione artistica che la scultura la conosceva la scultura monumentale o comunque la scultura in senso lato la conosceva attraverso vie molto particolari non voglio parlare quasi tutti i manuali di storie dell'arte quando parlano del periodo alto medievale o barbarico partono per esempio da oggetti di oreficeria dalla chioccia piuttosto che da altri esempi estremamente noti però non voglio parlare adesso di oreficeria perché lo faremo alla fine della nostra chiacchierata e quindi parto invece da un oggetto che è scultura in senso stretto è una pietra calcarea lavorata lavorata per sottrazione quindi con l'utilizzo di scappelli in maniera anche abbastanza tradizionale quello che però è molto importante di questo oggetto e quello che cerchiamo anche di veicolare agli studenti è che esemplifica in maniera molto chiara una cultura simbolica legata a dinamiche visive care per esempio al discorso proprio dell'oreficeria che applica quelle dinamiche a un discorso invece di scultura in senso tradizionale per certi versi anche classico vedete che per esempio c'è la rappresentazione su uno dei lati di Maria Vergine con i re magi che si presentano a suo cospetto è ovvio che lo scultore ha molto più interesse a dare una traduzione simbolica degli elementi piuttosto che di matrice realistica parlavamo prima di una tridimensionalità della scultura bisogna vedere quando e bisogna vedere il perché non tutta la scultura ha la stessa valenza tridimensionale non tutta la scultura nasce per essere toccata o per avere una spazialità a 360 gradi il tutto tondo è un portato della tradizione classica che per certi a certe fasi della storia dell'arte medievale sembra quasi scomparire anche se poi in realtà non è del tutto vero bene e vedete per esempio anche la capacità e la funzionalità che è intrinseca a un oggetto del genere il sovradimensionare le mani il sovradimensionare alcune parti parlava prima Fabrizio per esempio del discorso gerarchico del sovradimensionamento medievale è un tipico esempio di investire di un valore specifico elementi che sono inseriti in un oggetto artistico è molto divertente perché per esempio alcune visto che siamo in ambito universitario alcune lastre tombali dei grandi professori universitari mostrano un'arroganza quasi unica perché se pensate Matteo Gandoni questa arca del 1343 Matteo Gandoni si fa rappresentare sovradimensionato i suoi studenti un pochino più piccini e il bidello ed è la prima rappresentazione di un bidello nella storia invece è rappresentato quasi come un nano tant'è che tutti gli studenti che vengono al museo dicono è un nano no è un bidello e quindi essendo con tanto tra l'altro di divisa e di copricapo tipico dei bidelli dell'università di Bologna nel medioevo e quindi in quanto tale meno importante ed è ovvio che di solito un discorso di sovradimensionamento perlomeno nel XIV secolo veniva utilizzato per le figure sacre insomma Dio, la Vergine e i Santi è un po' una particolarità di questo professore il farsi rappresentare e qui ci troviamo anche in un discorso ovviamente che avete visto molto bene prima nel caso del Book of Kells quindi in un discorso in cui c'è un vero e proprio sincretismo tra la tradizione visiva cristiana e invece quello che è il mondo barbarico una cosa anche abbastanza divertente quando gli studenti o i visitatori insomma vengono al museo o in classe molto spesso gli chiedo in maniera molto molto semplice perché perché il mondo barbarico predilige l'oreficeria e la risposta è una di quelle risposte assolutamente banali perché sono popolazioni nomadi hanno bisogno di produrre materiali preziosi che siano facilmente trasportabili e che abbiano comunque un valore sia materiale che estetico molto alto e quindi la risposta più logica e più semplice di quella cultura è ovviamente l'oreficeria nel momento che una cultura nomade o seminomade diventa sedentaria il risultato è questo o il risultato è il Book of Kells cioè una fusione tra la tradizione anche linguistica se pensate al caso della miniatura o visiva di matrice classica di matrice ovviamente antica o tardoantica con quella che invece è un portato di una nuova cultura che è barbarica bene li avevo ovviamente messo in contrapposizione e qui giochiamo insomma quasi in casa uno dei plasticatori dei maestri degli artisti più straordinari del rinascimento emiliano che ovviamente Guido Mazzoni quindi un esempio invece di un discorso di terracotta di produzione scultoria per addizione anche per dirvi una cosa molto chiara lo è anche la pittura in alcune fasi ma la scultura lo è in particolare e molto spesso è un prodotto di più elementi che vengono montati tra di loro e in alcuni casi questi elementi lo vedremo dopo possono essere di materiali diversi quindi un discorso anche di polimatericità qui ci troviamo davanti solo a terracotta lavorata e poi dipinta però se ci pensate anche la pittura ha una funzione fondamentale nella storia della scultura e questa funzione fondamentale non la troviamo solo in un discorso potentemente realistico come quello di Mazzoni c'è il desiderio ovviamente di trasporre la tradizione sacra quasi con una propensione protoconciliare se vogliamo c'è la famosa Madonna della Pappa e perché c'è l'inserviente che sta soffiando sul cucchiaino con la minestrina che serve al Gesù bambino per non far scottare il Gesù bambino quindi insomma una trange de vie uno spaccato di vita veramente di un realismo radicale e quindi portare elementi della tradizione della tradizione della vita quotidiana nel mondo della storia sacra però troviamo l'utilizzo diffusissimo e reiterato della pittura in relazione alla scultura in tutta l'epoca medievale la scultura si smette di dipingere solo a partire sostanzialmente della fine del 400 e quello è legato al fatto che molto spesso quando si recuperavano i grandi gruppi scultori della tradizione classica in questi processi che a volte possiamo quasi definire protoarcheologici venivano recuperati che avevano perso i pigmenti ovviamente noi sappiamo tutti perché magari abbiamo viaggiato perché abbiamo studiato sul libro di storia che anche la scultura classica era policroma e invece gli uomini del rinascimento diciamo che sbagliano da questo punto di vista e pensano che ovviamente la sto facendo in maniera molto semplice ma è un processo che dura quasi un secolo e pensano che invece la scultura classica sia per sua natura monocroma ci sia la pietra vista in particolare soprattutto in relazione alle pietre nobili come il marmo e quindi si smette di dipingere la scultura e questo continua progressivamente fino all'ottocento e pensate che anche tutti i monumenti le arche dei dottori la scultura monumentale architettonica eccetera eccetera che sono conservati nei nostri musei molto spesso entrarono nei musei con i pigmenti con i pigmenti originari e furono che furono poi tolti perché erano ritenuti invece stratificazioni pittoriche successive quindi praticamente ci siamo ritrovati con una scultura monocroma quando era nata come scultura policroma ed era nata così per due motivi sostanziali sicuramente il primo è un motivo di natura realistica lo sapete tutti la contrapposizione tra i colori è uno dei primi escamotage per costruire spazialità pensate alla pittura bizantina pensate insomma a esempi ottoniani di miniatura cioè contrapporre colori diversi crea un effetto di profondità e poi serviva ovviamente a richiamare maggiormente quelli che erano gli elementi della realtà quotidiana e l'altro elemento e qui vi ho messo non a caso la lunetta del portale del Duomo di Verona di Nicolaus che è considerata una delle sue opere delle sue ultime opere nel 1139 l'altro elemento fondamentale era che come diceva giustamente prima Fabrizio ogni opera d'arte ha una sua durata naturale esistono rocce come per esempio il marmo che hanno una durata notevolissima ed esistono invece pietre cosiddette morbide come per esempio il calcare e queste pietre molto spesso tendono a subire in maniera notevolissima gli agenti atmosferici se venite alla Madonna di Galliera davanti a Palazzo Fava vedete le condizioni dell'estato perché quella era una zona in cui l'aria e il vento passava continuativamente e la pietra calcare ad appennino che è una pietra molto morbida si è sgretolata pur avendo 400 anni e quindi il coprire la pietra con pigmenti di solito minerali ma comunque con basi di varie tipologie serviva in qualche modo a proteggerla e a conservarla ovviamente dall'erosione e quindi la pittura serviva anche a questo aveva una funzionalità proprio materiale l'altro prima di passare a questo anzi no possiamo già anche parlarne con l'esempio che vi ho portato che è Antonio Minelli questo è il museo civico medievale che è il sepolcro di Pietro Canonici datato 1502 un'opera che fino a poco tempo fa era considerata di Onofri ogni opera ha ogni opera scultore in particolare ma anche pittorica come diceva Fabrizio prima viene costruita e realizzata per avere una collocazione specifica questo è estremamente importante per la scultura monumentale e non solo per esempio questa è considerata uno degli ultimi sepolcri anzi il più bentivolesco della tradizione artistica bolognese perché se ci pensate adesso vi ho messo un particolare della figura al centro c'è questa infilata laterale di studenti nei banchi con il professore con i canonici in cattedra con addirittura un trompoil nella parte inferiore dove ci sono i libri la clessidra eccetera eccetera quindi è pensato per una specifica collocazione di colui che guarda l'opera del fruitore stesso ma ha anche un'altra caratteristica molto interessante scusate è un riutilizzo nella parte posteriore della lastra chiedo scusa se ho dovuto utilizzare queste vecchie foto ma proprio perché è murà è montato vicinissimo alla parete è praticamente impossibile riuscire a fotografarlo integralmente e io tra l'altro stupidamente stamattina ho detto boh figurati se in museo qualcuno non sarà riuscito a fotografarlo in un'unica infilata e neanche all'epoca sono riusciti a fotografarlo in un'unica infilata e quindi vi ho portato vi ho montato ecco diciamo così le due immagini successive è un riutilizzo in realtà si fa anche oggi se andate se avete pochi soldi dovete fare una lastra tombale per un vostro defunto andate dal dal marmista se avete se avete una buona disponibilità economica prendete una lastra nuova se avete una scarsa disponibilità economica chiedete al marmista se per caso non ha una lastra che era già stata iniziata che si ribalta e si realizza l'immagine dall'altra parte Pietro Canonici è proprio questo nella parte che era inserita e collocata nel muro era già stata cominciata una sepoltura per un altro professore che per noi diventa estremamente interessante perché ci permette di capire in maniera perfetta come operassero le botteghe voi su questa lastra a partire da sinistra andando via via verso destra vedete tutto il procedimento tecnico materiale che veniva messo in opera dai maestri scultori ne parleremo dopo dovete però tenere presente che come nel caso della pittura noi storici dell'arte abbiamo passato secoli a massacrarci sulle diverse mani all'interno delle botteghe in realtà nelle grandi operazioni nei grandi cicli ma anche i monumenti di questa tipologia qui erano diverse le professionalità che entravano in gioco ovviamente il marmo veniva tagliato di solito dai più giovani all'interno di una bottega perché era il lavoro più faticoso il marmo o la pietra che dir si voglia poi veniva iniziato poi ovviamente il disegno il progetto era fatto dal maestro veniva sbozzato poi da aiuti e da diverse professionalità che tra l'altro qui vediamo molto bene peccato per l'immagine sarebbe bello avere qui la lastra davanti finché poi il maestro il capo bottega aveva una funzione normalizzatrice all'interno del lavoro e cioè quando si andava a operare con le paste vitre doveva in qualche modo omogeneizzare il lavoro dei più la stessa cosa succedeva nelle grandi cantieri pittorici se pensate come quello di Giotto e qui riuscite a vedere molto bene la partenza del lavoro le varie tipologie di scalpello a punta piatta grandi piccole eccetera eccetera che vengono utilizzati per sgrossare per spaccare la pietra poi l'utilizzo nella parte centrale soprattutto della mazzetta e via via fino ad alcune parti che sono state già lisciate attraverso l'applicazione di paste abrasive che ci permette insomma di capire un pochino qual era il procedimento ecco e qui invece mi ricollego a un discorso che Fabrizio ha fatto molto bene prima precedentemente perché è il discorso della stratificazione delle diverse ere artistiche all'interno di un oggetto scusate ho invertito le due immagini questa è l'arca di San Domenico è un palinsesto della scultura italiana tra medioevo e modernità è sicuramente l'opera più celebre più importante che è conservata a Bologna ed è un'opera che viene cominciata da Nicola Pisano e dai maestri della sua bottega fra Guglielmo Arnolfo di Cambio il giovanissimo figlio Giovanni viene portata avanti attraverso l'intervento di Nicolò di Puglia che viene denominato per la straordinaria realizzazione della copertura Nicolò dell'Arca viene continuata da Michelangelo nel suo soggiorno bolognese con la realizzazione di tre statue della copertura poi ci lavora Alfonso Lombardi nel Cinquecento e viene terminata con la realizzazione dell'antependium d'altare che viene realizzato da Boudard che è questo artista francese appunto nel 1768 quindi una sorta di quasi cattedrale in piccolo un lavoro lunghissimo in cui le specificità dell'Arca diciamo medievale vengono sostituite poi attraverso un approccio completamente diverso pensate che l'Arca nasce viene collocata alla base di questo cappellone che verrà costruito successivamente l'Arca di Nicola Pisano viene realizzata e viene rialzata perché la prima Arca che era stata costruita per San Domenico che si trovava nella navata centrale sulla sinistra progressivamente era posta sul pavimento e richiamando sempre più pellegrini non permetteva la visibilità del corpo delle spoglie del santo e quindi viene chiamato Nicola Pisano che realizza un'Arca sollevata da terra ovviamente richiamandosi a quella che era la tradizione la grande tradizione dei sepolcri patrizi romani e che realizza questo straordinario ciclo narrativo che è vorticoso collegato alla tradizione classica sembra quasi di leggere la storia sacra trasporta attraverso una quasi la vertigine che ci danno le grandi colonne della narrazione romana pensate alla colonna traiana e condisposte alcune figure quasi a tutto e tondo come la vergine e gli evangelisti e i lati che servono a diciamo distinguere le varie scene legate alla storia del santo un'altra cosa estremamente importante che diceva Fabrizio è che noi oggi siamo abituati a studiare molto di più la pittura a considerare la pittura estremamente avanguardista rispetto alla scultura ma tenete presente che l'umanesimo per certi versi comincia posso dirlo con Nicola Pisano comincia cioè nel 66 Nicola Pisano ha un rapporto anche di citazione col classico che Giotto avrà qualche anno dopo qualche decennio dopo quindi siamo in un momento in cui sicuramente la scultura apre una nuova via rispetto a quello che invece fa la pittura che in quell'epoca era ancora legata alla tradizione schiettamente bizantineggiante che si era imposta nel 200 in un'altra parte di questa chiesa abbiamo la crocifissione che prima Fabrizio ha mostrato di Giunta Pisano che è del 1250 ecco va bene andiamo avanti perché il tempo è poco e quindi qui mi ricollego invece al discorso dell'utilizzo scultorio per delle motivazioni anche di natura politica delle motivazioni storiche e che molto spesso sono extra artistiche definiamole così questo è un busto è un presunto busto di Federico II di Svevia se voi andate a vedere la bibliografia di quest'opera è vastissima c'è chi ipotizza che sia un busto di Giulio Cesare c'è chi ipotizza che sia invece semplicemente un busto di imperatore alla moda classica c'è chi invece sostiene che certamente è un busto di Federico II di Svevia e si trova il castello di Barletta ed è un'opera certamente molto avanguardista per l'epoca perché ha questo citazionismo classico fortissimo tenete presente che ovviamente è sulla scorta di quelle che erano le dinamiche stilistiche caratteristiche della cosiddetta rinascenza federiciana tutto quel movimento di recupero della classicità che aveva una funzione chiaramente politica cioè Federico doveva ribadire la centralità dell'impero adesso lo sto facendo in maniera molto molto schietta e molto rapida ma allo stesso e questo procedimento poteva avvenire anche attraverso un discorso di visibilità la porta di capua con l'utilizzo anche di materiali di recupero specifici è proprio questo serve a riaffermare un fir rouge che ricolleghi l'impero federiciano svevo del 200 con la tradizione dei grandi imperatori dell'apogeo romano tenete poi presente una cosa che moltissimi di questi materiali creati nel 200 se venite anche al museo dove lavoro io al museo civico medievale e vedete nella sala del Bonifacio VIII i tondi o i clipei o le testine d'imperatore e andate a leggere gli inventari del museo dell'accademia clementina o poi del museo della collezione universitaria sono considerati opere classiche a tutti gli effetti nel 700 molto spesso si vedevano oggetti di questo tipo e li si leggeva come opere classiche in senso proprio stretto non si riusciva a capire e a concepire la possibilità di una rinascenza potentemente classica che in qualche modo anticipasse quella dell'umanesimo e del 400 italiano ecco ovviamente a proposito di umanesimo e rinascimento vi avevo posto quella che è sicuramente una delle immagini simbolo il confronto tra i crocifissi lo trovate su tutti i manuali di storia dell'arte la capacità di realizzare una figura potentemente inserita nello spazio il nudo l'anatomia dirompente e assolutamente innovativa il corpo di un morto a tutti gli effetti applicato a una croce qualcosa di di così epidermico come la crocifissione che Filippo Brunelleschi realizza nella cappella che oggi è collocata nella cappella Gondi in Santa Maria Novella tra il 10 e il 15 del 400 è certamente quasi un'opera emblematica di quella che è la tradizione e la novità del rinascimento italiano vado un pochino più veloce ecco a proposito vi avevo inserito ovviamente anche la statua equestre del gatta melata perché mi serviva per sfatare anche un mito tecnologico e tecnico che dir si voglia fino a poco tempo fa su gran parte dei libri di storia un po' meno di storia dell'arte ma se andiamo un pochino più indietro con 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 la memoria lo troviamo anche sui libri di storia si dice chiaramente una cosa che la tecnica della fusione cera persa viene abbandonata grosso modo in epoca tardo antica per essere recuperata pienamente solo dagli scultori toscani in particolare ovviamente Ghiberti poi Donatello all'inizio del 400 e questo è un grandissimo falso storico perché tutta la bronzistica medievale compresi gli acquamanili compresi i reggi candele bronzistica soprattutto che veniva prodotta in area germanica e francese è realizzata con la tecnica della fusione cera persa certo per realizzare un monumento equestre di queste dimensioni ci vuole una perizia tecnologica assolutamente straordinaria e la disponibilità di materiali di materiali di qualità che per gran parte dei secoli dell'alto medioevo e del medioevo è difficile trovare ma in realtà la continuità tra il mondo classico e il nuovo mondo legato all'umanesimo legato alle novità artistiche e tecniche del quattrocento è molto più vicina c'è molto più un discorso di continuità di rapporto di quanto si è studiato poi nelle epoche successive di quanto la storiografia poi ha definito ecco ovviamente volevo parlarvi anche un po' della complessità del monumento equestre e proprio per un discorso di complessità e di rapporto con l'architettura che molto spesso la scultura deve avere o ha per sua genesi vi avevo portato questo esempio che è un esempio sicuramente molto interessante è la famosa torre dell'orologio di piazza San Marco che viene realizzata per volontà di un doge la cui statua si trovava anche alla base ai lati insomma della figura della Vergine viene realizzata da un'equipe di artisti poi vedremo chi è lo scultore chi è il progettista dell'ingranaggio dell'orologio però Mauro Codussi è l'architetto che in sostanza realizza questa grande impresa è un'opera celeberri ma in cui troviamo diverse tipologie di sculture dai bronzi nella realizzazione della campana a quei famosi mori di Venezia alla figura della Vergine alle statue linee che hanno una funzione quasi di automi e che vengono e che periodicamente fuoriescono per onorare appunto la Vergine stessa Bartolomeo Farracina che è questo sì sì vado velocissimo siamo quasi alla fine che è questo genio creativo veneziano le cronache raccontano che lui già a 7-8 anni passava il tempo a creare dei meccanismi invece di applicarsi nello studio delle arti è colui che realizza le figure dei magi che sono un tipico esempio di scultura a linea anche il crocifisso ovviamente di Brunelleschi è un esempio di scultura a linea e scultura a linea che tra l'altro ha una funzionalità specifica per esempio anche a Bologna avevamo un orologio che era collocato sulla torre di Palazzo d'Accursio gli automi oggi supesti si trovano alle collezioni comunali d'arte e vedete che questi automi avevano proprio degli ingranaggi che permettevano il movimento noi troviamo molto spesso elementi scultori che vengono realizzati appositamente per una funzionalità religiosa per esempio i grandi crocifissi di Giovanni Teutonico che è questo scultore del legno che lavora alla fine del Quattrocento in varie zone d'Italia molto spesso hanno un meccanismo ce n'è anche una Bologna hanno un meccanismo che permette al crocifisso di abbassarsi per simulare la morte di Cristo sulla croce nel Quattrocento sulla scorta delle sacre rappresentazioni si sviluppano tutta una serie di sistemi che permettono la movimentazione della statuaria soprattutto linea perché ovviamente concorde con meccanismi era quella che era molto più semplice movimentare qui direi che salto tanto sono opere celeberrime qui ovviamente vi volevo parlare dell'utilizzo in epoca barocca dei grandi complessi scultorei che avevano anche una funzionalità una visibilità schiettamente polimaterica questo è il caso eclatante di un altare strepitoso che è quello della Cappella Cornaro di Santa Maria della Vittoria realizzato con l'immagine con una delle immagini più famose di Bernini che è la transverberazione di Santa Teresa d'Avila trovate un altare con queste propensioni anche a Bologna se andate in San Paolo Maggiore dove lavora Alessandro Algardi che realizza questa immagine veramente straordinaria anche se ovviamente rispetto a Bernini Algardi ha delle dinamiche stilistiche un pochino diverso poi vi avevo inserito proprio per darvi l'idea di come i canoni classici progressivamente si rigidiscano l'esempio straordinario di quello che probabilmente dal punto di vista tecnico è il più grande scultore del marmo che abbia messo piede sul suolo italiano cioè di Antonio Canova che raggiunge dei livelli di perizia tecnica pressoché unici se non lo sapete Antonella Mampieri è riuscita a ricostruire che anche a Bologna abbiamo un'opera di Canova che fino a poco tempo fa non era era considerato di cincinnato Baruzzi alle collezioni comunali l'Apollo è stato riconosciuto come una delle sette opere mancanti di Canova documentato quindi se avete se l'avete sicuramente visto ma se avete voglia potete tornare a vederlo quindi anche un discorso poi del tutto tondo di recupero di una visibilità purista all'antica eccetera eccetera che era alla base del sapere e delle connotazioni stilistiche dell'epoca neoclassica e poi vi ho messo questo perché vi ho messo questo? perché è la scultura più complessa anzi già sono partito male l'ho definita scultura è l'oggetto più complesso che possediamo in ambito bolognese perché ed è il motivo per cui non vi ho parlato all'inizio della mia chiacchierata di oreficeria perché tantissimi aspetti che Fabrizio ha indagato e che io ho cercato sulla sua scia di recuperare sono incarnati in questo oggetto questo oggetto ha una valenza storica potentissima è un oggetto che ha una natura tecnico-materiale assolutamente unica ed è uno dei pochi oggetti del 300 bolognese di cui possediamo tutta la documentazione noi sappiamo perché è nato le motivazioni che l'hanno fatto diventare così e chi è stato il suo autore e dove è stato collocato per diversi secoli ed è prima di tutto un oggetto polimaterico nasce è la famosa statua di Bonifacio VIII nasce nel 1301 velocissimo perché so che i tempi sono stretti il papa Bonifacio VIII risolve una questione che era sorta tra il comune di Bologna e Ferrara per il possesso di alcuni castelli dell'Appennino tra cui Bazzano con un'azione diplomatica quindi il consiglio del popolo che era più lealista del re decide di realizzare tre statue monumentali che celebrassero l'intervento di Bonifacio la prima doveva essere dedicata a Bonifacio e le altre due laterali al Podestà e a Carlo D'Angiò che era ovviamente il capo del partito Guelfo nonché re di Napoli in realtà verrà realizzata solo quella di Bonifacio noi sappiamo dalla documentazione che nell'estate del 1301 il consiglio del popolo decide di stanziare i soldi e di affidare la ricerca della pietra nobile cioè del marmo per realizzare queste statue al sergente il sergente interpella i maestri scultori più importanti della città che peraltro c'erano in quel momento molti sono impegnati e probabilmente nessuno se la sente di realizzare una statua in marmo di tre metri e trenta e allora decide di affidare il consiglio del popolo decide di affidare l'incarico non a uno scultore ma all'orafo più importante della città che si chiamava appunto Manno di Bandino da Siena e addirittura sarà documentato fino al 1314 e nonostante i chilometri di bibliografia che sono stati spesi che parlano di rapporto col mondo orientale di dinamiche di questa opera sembra quasi una scultura egizia eccetera in realtà il senso stesso anche da un punto di vista stilistico del Bonifacio risiede nella sua natura materiale perché Manno di Bandino da Siena fa quello che sapeva fare cioè realizza un gigantesco getto di oreficeria da un punto di vista tecnico se voi battete dietro non fatelo perché se no medica si arrabbia sentite che è vuoto è una lastra di rame che è stata applicata su un supporto lineo su un'anima di legno e da un punto di vista proprio della tecnè della lavorazione è identico agli altri oggetti di oreficeria nella vetrina lì a fianco ci sono delle croci le croci si prendevano due pezzi in legno che venivano rivestiti di last di rame poi dorato l'unica parte che differisce da questo punto di vista è la testa che è realizzata in bronzo con la tecnica della fusione a cera persa e la mano perché la mano è frutto di un restauro successivo l'opificio delle pretedure nella relazione parla forse di un bronzo quattro-cinquecentesco probabilmente si ruppe nello spostamento e quindi venne restaurata è qui che veramente risiede anche le caratteristiche stesse di quest'opera questa verticalità profondamente gotica è assolutamente straordinaria in un'opera scultore a coeva ma la ritroviamo spesso nelle oreficerie il braccio tubolare con la benedizione apostolica ricorda molto bene quelli che sono i reliquiari del periodo quindi cioè vedete come tecnica problemi di natura contingente quindi committenza scarsità di materiali perché a Bologna c'era poca pietra nobile in realtà hanno poi influito su un prodotto artistico che noi che non la tradizione insomma a cui noi facciamo capo molto spesso ha letto solo ed esclusivamente attraverso un filtro di natura stilistico filologico che ovviamente per un oggetto di questo tipo è una sorta di cortocircuito cioè non permette la comprensione di questo oggetto pensate se noi non avessimo avuto tutta la documentazione su la statua di Bonifacio che cosa avrebbe scritto la critica avrebbe scritto delle cose sicuramente incredibili vi ringrazio insomma spero di di essere stato di essere riuscito a continuare il lavoro di Fabrizio in maniera puntuale e niente buona serata siamo noi che ringraziamo te Fabrizio di questa bellissima che ci ha fatto passare il tempo troppo tempo ahimè senza accorgercene quindi in fondo vi siamo grati anche di averci dato però ecco se purtroppo non possiamo proseguire con un dibattito le domande sono tante visto la complessità delle cose che ci avete restituito e anche le cose abbiamo imparato molte cose ma anche la quantità di nozioni di interrogazioni che possono poi emergere vi chiediamo di tornare nel senso che appunto siamo rimasti qua abbiamo un sacco di domande da da porvi e probabilmente che possono dare anche a voi l'opportunità di continuare questo discorso così complesso metodologico disciplinare trasversale tra le discipline e quindi io credo che purtroppo dobbiamo chiudere tempo non ha scusate come appunto le porello dobbiamo chiudere qua però ecco vi chiediamo in ottobre novembre dicembre riprenderemo il ciclo e concluderemo riprenderemo un ottavo ciclo di incontri e a questo punto l'impegno a tornare grazie grazie a tutti